Salve creatura della notte, eccomi tornata con un nuovo video recensione. Il libro che andrò a recensirvi oggi purtroppo non ce l'ho in formato cartaceo ma bensì in ebook e mi è stato inviato dalla casa editrice Fazzi Editore. Il libro che andrò a recensirvi si intitola Lady Morgana e l'autrice Desi Giuffre. Allora, di questo libro inizierò a raccontarvi brevemente quella che è la trama. Allora, ci troviamo a Douglas che è una città praticamente dell'isola di Manche, un'isola che si trova nel mare irlandese. Morgana e Adam sono due fratelli e nonostante abbiano un bellissimo rapporto sono praticamente totalmente diversi l'uno dall'altro. Morgana è una ragazza molto introversa mentre Adam è solare e socievole. Un bel giorno, durante la fiera di paese, Morgana viene additata da una zingara come una strega malvagia. Lei è spaventata, si rifugia praticamente nelle spiagge e lì incontra un ragazzo misterioso di nome Ian che gli dice di essere nuovo della città. Dopo ciò, i tre ragazzi partono per una gita in Cornovaglia perché Ian ovviamente comincia la scuola insieme a Morgana. Vanno a fare questa gita in Cornovaglia e Morgana si sente molto tratto da questo ragazzo, da Ian, anche se non sa assolutamente nulla di questo ragazzo perché non lo conosce minimamente, si sente sempre molto attratta da lui. E durante questa gita appunto saranno vittime tutti e tre, tutti e tre i protagonisti, di un incidente attraverso il quale scopriranno di essere rispettivamente le reincarnazioni l'ipotente mago Merlino, Ian, Rear to Adam e la potente strega Morgana per Morgana. Da questo punto si snodderà tutta la vicenda che vede i tre protagonisti impegnati nello scoprire il perché sono ritornati, se sono reincarnati in questi grandi personaggi e dovranno imparare soprattutto Morgana a gestire i suoi poteri, che sono poteri malvagi e che a lei non piace per niente utilizzare, dai quali però viene molto spesso sopraffatta. E quindi vedremo Ian, che era potente mago Merlino, insegnare a Morgana tutta una serie di formule, insomma, di cose per cercare di farle tenere a bada i suoi poteri. Ovviamente i due si innamoreranno, ma questa è una cosa, non vi racconto insomma nulla di nuovo, perché si sa benissimo che Lady Morgana, cioè che Morgana e il mago Merlino, anche nei vecchi libri, nei vecchi libri, erano innamorati un po' l'uno dell'altro. Morgana ama però anche Artù, come si sa dai libri, chi ha letto i libri riguardanti a mago Merlino e Artù. E questo all'inizio mi ha lasciato un po' perplessa, e vi spiegherò più avanti perché. Allora, cosa dire di questo romanzo? Innanzitutto, l'autrice, che è Desi Giuffet, è un'attrice emergente, e questo è il suo secondo romanzo. Il suo primo romanzo è stato Io sono Heathcliff, che è stato un romanzo che tra l'altro io ho avuto la possibilità di leggere, perché sul Kindle Store si trova comodamente, e quindi l'ho acquistato tramite Kindle Store, quando l'ho letto sul Kindle, appunto sul telefono, e con questa autrice purtroppo ho avuto qualche difficoltà. Allora, andiamo un po' ai gradi. Una cosa che mi piaciuta tantissimo, ma proprio tanto, è stata la frase dell'inizio, che recita, ve la leggo, A chi riesce ancora a vedere il mondo al di là dei propri occhi, vivendo ogni attimo della propria vita con la semplicità di un bambino è Il cuore da leone. Allora, io adesso non so se, perché non ho verificato, se sia farina del suo sacco, oppure se sia una citazione di qualcun altro. Fatto sta che comunque, se è farina del suo sacco, le faccio complimenti, perché questa frase è veramente, veramente bella. Ho trovato anche molto originale il fatto di far rivivere personaggi storici così importanti, come appunto Lady Morgana, Re Artù, Mago Merlino, tutti questi personaggi molto, molto importanti, molto misteriosi, intriganti comunque. L'unica cosa però è che con me non hanno molto funzionato, ma non ha molto funzionato non tanto la storia, quanto la scrittura della Giuffre, perché non ho trovato il libro molto interessante, purtroppo. si sente davvero tanto che lei è un'attrice emergente, perché appunto la scrittura, per quanto sia molto facile e scorrevole, perché si legge davvero in fretta il libro, perché sono comunque 200 pagine, non di più, la scrittura, dicevo, non mi ha trasmesso realmente tutto ciò che secondo me l'autrice avrebbe voluto esprimere in realtà. Scusatemi, mi sto rendendo conto che guardo di là, ma perché ho la telecamera lì? E allora guardo lì. Insomma, secondo me si poteva fare qualche cosa di più. Penso che il tutto non sia stato sviluppato al meglio, perché la scrittura, come dicevo, è molto sbrigativa, ci sono cose che avrebbero dovuto, secondo me, essere chiarite molto meglio. Voi sapete benissimo che io non ho una grande e particolare amore per le descrizioni troppo lunghe, arzigogolate, però trovo che in questo libro in realtà manchino davvero tanto. Ci sono troppe poche descrizioni dei posti in cui si è, io ad esempio il dove, cioè questa cosa che Douglas è la capitale dell'isola di Man, e che l'isola di Man si trova nel mare irlandese, l'ho trovato da me. Oddio, certo che si può immaginare benissimo più o meno dove si svolge la vicenda, perché stiamo parlando di Mago, Merlino, Realtù e Morgana, ecco, però le descrizioni anche dei luoghi sono un po' blande, avrei voluto ecco che l'autrice sviluppasse un pochettino di più le descrizioni dei luoghi, ma perché secondo me in un libro in cui si parla di magia il fatto di descrivere un po' meglio le cose rende il tutto un po' più magico, no? Perché la gente si può immedesimare di più. Punto primo, punto secondo, mancano anche tantissimo le descrizioni dei personaggi, cioè i personaggi non sono non sono caratterizzati, sono caratterizzati in modo, secondo me, un po' stereotipato, cioè Morgana è sempre la classica ragazza un po' introversa, sicura di se stessa, che non è accettata, che non ama tanto stare a contatto della società, eccetera, eccetera. Adam invece è il classico belloccio che è simpatico, non il primo della classe, ma quello che sta simpatico a tutti, che a scuola va d'accordo con tutti, di cui tutte le ragazze puntualmente si innamorano, eccetera, eccetera. E Morgana guarda caso di chi si va a innamorare, si va a innamorare di Ian, che è il classico ragazzo misterioso che stuzzica alla fantasia adolescenziale, insomma, che per carità ci può anche, ci può stare, ci può stare perché questo essendo un comunque un young adult, un paranormal romance, ci sa benissimo che sia anche magari ci siano anche un po' di cliché o un po' di stereotipi, ma gli stereotipi devono comunque essere approfonditi ed essere trattati in un certo modo, secondo me, devono essere approfonditi. alla fine il romanticismo che troviamo nel libro spesso e volentieri va a sfociare in un sentimentalismo come dicevo, troppo visto, troppo, troppo, troppo visto e secondo me poco profondo. Ripeto, capisco che sia uno young adult, capisco che sia magari forse più indirizzato verso un pubblico adolescenziale, però gli manca qualcosa, secondo me, queste sono sempre opinioni personali, prendete tutto ciò che dico con le pinze. Dove ero rimasta? Sì, niente, che questo romanticismo appunto è poco profondo. Ad esempio, quando i personaggi scoprono di avere i poteri e di essere della reincarnazione appunto di Ria, tu, Morgana e Merlino, iniziano a fare cose assurde. non lo so, Morgana, per quanto i desi, Giuffredi hanno voluto caratterizzare Morgana come una, cioè, cavolo, Morgana è una strega forte, era un personaggio molto di impatto, no? Abbiamo voluto cercare di mettere questa personalità, quindi di una strega molto potente dentro un adolescente, cercando di far pensare che l'adolescente sia maturo quando in realtà Morgana di maturo non ha assolutamente niente, prende decisioni assurde, fa cose senza pensarci, cioè, ad esempio, Ian, che è mago Merlino, decide di fare da maestro a Morgana appunto, come vi dicevo prima, per insegnarle a tenere sotto controllo i suoi poteri, portandola a vivere in una casa sperduta in mezzo ai boschi, raccontando a sua madre, l'ha fatta sparire per settimane, facendo credere a sua madre che fosse stata ad un campeggio o a un ritiro di scuola, insomma, va bene, ok, però, tutti i tuoi amici, tua madre, ogni tanto non ti chiama, non ti sente, non si chiede dove sei, cosa fai, se stai bene, ci sparisci, boh, così, da punto in bianco, non dici niente a nessuno, te ne vai, nessuno ti cerca, queste sono piccole cose, ad esempio, anche la caratterizzazione della mamma di Morgana e di Adam, è una mamma molto assente e fino a qua ci sta, ci sta, mi sta bene creare un personaggio poco assente, cioè, molto assente, anche perché Morgana e Adam non sono fratelli di sangue ma sono fratellastri, anche perché anche fisicamente non si assomigliano per nulla, cioè Adam è un ragazzo biondo, insomma, è Morgana, e invece è pallida e con i capelli neri lunghi, insomma, quindi, ok, avete una madre assente che non si sa bene perché, capite, hanno una madre assente superficiale che pensa solo a vestirsi con i tacchi e uscire la sera a baccagliare gli uomini da quello che ho capito io, mi va bene, va bene, però spiegami il perché, cioè perché tua madre assente, perché la madre assente, cioè perché non gliene frega niente di voi, cioè cosa gli è capitato, ha avuto un marito, cioè non è ben sviluppato ad esempio neanche questo, oppure io dopo un po' inizio ad esempio ad essere un personaggio fastidiosissimo, prima sta sempre attorno a Morgana, va lì, le fa le moine, le riduzzo l'intorno, perché comunque ovviamente hanno una sorta di attrazione fatale l'uno per l'altro essendo magari mago Merlino e la strega Morgana, poi dopo si vede che ritorna ad essere Ia, normale, allora le va contro, insomma inizia ad essere fastidioso a un certo punto perché si inizia ad atteggiarsi grande mago, una grande mago con l'esperienza grande mago già fatto è finito quando in realtà è ancora troppo immaturo data la sua età reale perché Ian giustamente è come tutti gli altri un ragazzino di 17 anni, non è neanche ben specificato questo nel libro l'età dei ragazzi ma quello che mi hanno dato a pensare è che si aggirino tutti e tre sui 15-16 anni 17 Morgana invece appunto come dicevo prima si lascia imbambolare da tutti sembra non avere un paere del suo è divisa da questo amore come ho detto che ho trovato anche un po' raccapricciante per Ian perché appunto è mego Merlino quindi lei si sente comunque attratta con questa attrazione fatale ma anche per Adam che in realtà nella vita reale è suo fratello cioè è suo fratellastro e ad un certo punto assistiamo a una scena quasi incestuosa che è capitata appunto tra i due che mi ha lasciato un attimino perplessa e abbasita perché secondo me non era assolutamente necessaria l'ho trovata un po' un po' fuori luogo forse un po' troppo spinta spinta un po' troppo in là il finale tra l'altro mi ha deluso tantissimo perché si è risolto tutto troppo velocemente non è stato approfondito niente alla fine si spiegano quelle due o tre cose perché loro alla fine vanno a ritrovare la zingara che ha dittato Morgana alla festa e la zingara spiega due o tre cose poi si vede che insegna Morgana a tenere sotto controllo i suoi poteri poi dopo tutto finito insomma è proprio troppo veloce secondo me e non è stato appunto approfondito niente come ho detto in questo romanzo che avrebbe dovuto essere praticamente il romanzo principale perché da quanto ho capito dovrebbe essere una trilogia avevo già pensato che 200 pagine perché adesso non ricordo più bene quante siano di precisamente le pagine ma sono 200 pagine fossero forse un po' poche per una storia insomma su Merlino Artù Morgana eccetera eccetera però io devo dire che se i concetti sono spiegati trattati bene le descrizioni ci sono e magari tu non vuoi dare troppi elementi però cerchi di creare un libro che in 200 pagine cerchi di coinvolgerti di voler sapere come vada a finire come vada avanti si può fare secondo me insomma avete capito a me questo libro non è piaciuto tantissimo e a me dispiace dispiace perché quando mi vengono inviati i libri e gli autori sono degli autori di esordio mi dispiace sempre non mi piace mai dare delle opinioni negative perché so quanto il nostro parere cioè il parere da lettori gravi su di loro insomma sugli autori soprattutto se sono agli inizi però questa volta mi dispiace ho cercato di esaminare davvero tanto e di esaminare davvero tanto questi libri infatti ci ho messo anche molto a inviare questa recensione perché ho cercato di estrapolare cercare di trovare qualcosa che per me io continuo a dire sempre per me potesse andare bene insomma che mi avesse fatto piacere qualcosa io continuo a dire che la storia è veramente bella quindi se posso azzardarmi da ignorante quale sono perché io sono una semplice lettrice questo chiariamolo però se potessi dare un consiglio all'autrice sarebbe quello appunto di dilungarsi molto di più sulle descrizioni sia dei paesaggi sia dei luoghi quindi che soprattutto dei personaggi perché sono una cosa principale evitando magari qualche cliché se si può se no va bene anche così lasciamo pure il cliché però trattiamoli un po' meglio perché? perché a me dispiace perché la giuffa e la fantasia non manca per nulla le idee originali le ha deve soltanto secondo me imparare due o tre cose in più poi queste sono comunque sempre mie opinioni personali allora chi potrebbe consigliare questo libro? questo libro sicuramente potrebbe consigliarlo a un pubblico femminile molto giovane che vuole avvicinarsi alla lettura appunto di fantasy paranormal romance non mi viene sì paranormal alle menze infatti young adult ecco non mi veniva il termine e quindi lo consiglio sicuramente a loro loro lo consiglio lo consiglio perché è una lettura comunque semplice scorrevole facile e magari appunto per le ragazzine forse è più facile riuscire a medesimarsi in questa storia e con questo vi mando un grosso un grosso bacio spero che Daisy Giuffrey non ce l'abbia con me giuro che non ce l'ho io non ce l'ho con lei anzi spero tutto spero che le vada tutto bene che possa scrivere dei libri migliori un bacio a tutti quanti creatore della notte e ci vediamo al prossimo video